Regnare il passo. Oh, che bella, chi sei? Sei benissimo. Alex, scusa. Madonna, sei bellissimo, grazie. Oh, e poi questa foto? Non cosa se zocchiate. Oh, e poi questa foto? Allora, non posso farlo. La cosa qua al contrario. Il termino di questo è la vita. Grazie. 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 Precorso. Avanti, marchi. Grazie.